Buonasera e bentornati agli inciuci di Chicca e Reni, il programma dedicato al gossip a cura della redazione di Per Sempre News. Da più di un anno circolano rumors di una presunta antipatia di Tagliannello nei confronti di Giulia Delellis, in quanto la modella brasiliana è l'ex finanzata di Carlo Beretta, l'attuale fidanzato di Giulia. E sui social adesso sta circolando una vera bomba mediatica dopo il commento di Tagliannello sotto un post di Giulia Delellis. La Delellis infatti ha pubblicato tre foto di Instagram, una con il trucco, una al naturale e un'altra di circa due anni fa di quando soffriva di acne, divinandosi felice dei progressi della sua pelle. La ragazza ha infatti sin da subito, sin da quando ha aperto il suo profilo social, ha cercato di sensibilizzare i propri followers su questo tema. Immediato però è stato il commento di Tagliannello, la quale accusa Giulia Delellis di strumentalizzare il suo problema di acne che, secondo Lamello, non esisterebbe nemmeno. Ragazzi, voi da che parte state? E soprattutto, cosa ne pensate? Ha ragione Giulia o Dianne? Ragazzi, continuate a seguirci su tutti i nostri canali social, per oggi è tutto, ci vediamo con il prossimo minciuccio. Ciao!